Dottor Dossena, in Campania c'è un problema molto grave che è quello dell'abbandono dei rifiuti legati alla terra dei fuochi. Che cosa sta facendo Ecopneus in questo senso? Ecopneus è promotore e partecipe di un protocollo siglato con il Ministero, le province di Napoli e Caserta e la Prefettura per degli interventi straordinari di raccolta proprio per sottrarre alla possibilità che questi pneumatici abbandonati diventino il letto di combustione per l'eliminazione di altri rifiuti provenienti da attività illegali. Quindi attraverso questo protocollo siamo direttamente coinvolti in interventi particolari e speciali per andare a recuperare materiale laddove ci venga segnalato da parte dei comuni aderenti al protocollo stesso. Quali sono i comuni che aderiscono al protocollo? Quanto materiale c'è da portare via? Allora, i comuni aderenti sono 74 appartenenti alle province di Napoli e Caserta. Il volume che abbiamo raccolto dall'inizio della firma del protocollo ammonta circa 22.000 tonnellate che per dare una dimensione è pari all'equivalente che viene normalmente raccolto in regione Campania in un anno di lavoro dai canali tradizionali, cioè la raccolta ordinaria della Campania è pari a 20.000 tonnellate. Quindi da che abbiamo sviluppato il protocollo nel 2013 a oggi abbiamo raccolto l'equivalente di un anno di lavoro attraverso questa formula.